Avvicina la pulce al Pipe d'Oro ancora di più. Visto dal basso, non credo ci siano dubbi, non c'è proprio l'angolo per mettere quella palla. La partita è finita, non c'è nessuno che si prende una responsabilità che è una. Lui mette una cosa che può venire a un paio di giocatori che passano sotto un gnocco minerale che ruota attorno al sole, un gol incredibile. Il gol che è fantastico a livello tecnico.